Non è casuale celebrare oggi la giornata mondiale della cardioreanimazione polmonare alla Camera perché dalla Camera il 30 luglio è stata approvata una legge che prevede finalmente per l'Italia l'uso dei defibrillatori e soprattutto il fatto che tutti lo possono usare senza paura. Il defibrillatore è uno strumento salvavita, in Italia ci sono decine di migliaia di vite, 70.000 ogni anno le vittime di arresto cardiaco, con questa legge che sarà approvata prestissimo anche al Senato introduciamo l'obbligo dei defibrillatori nei luoghi pubblici, sui mezzi di trasporto, ovunque possono servire formeremo gli studenti dalla scuola elementare alla scuola superiore e finalmente avremo anche un'app per tutta Italia dove saranno individuati dal 118 immediatamente la dislocazione dei defibrillatori è un grande traguardo di civiltà per il Paese.